Una pista di ghiaccio e il villaggio di Natale in Piazza Pace e la mostra dei presepi giunta alla 23esima edizione sono i primi appuntamenti dei 70 in cartellone per il Natale 2013 promosso dall'amministrazione comunale di Lanciano e presentato dall'assessore alla cultura Pino Valente. Un cartellone a costo zero per il Comune ha sottolineato Valente perché organizzato con la collaborazione di tante associazioni cittadine dalla Proloquo agli amici di Lanciano Vecchia agli sbandereatori che si esibiranno sabato 21 dicembre in Piazza Plebiscito. In Piazza Pace 11 casette di legno ospiteranno artigiani locali e l'associazione Lanciano Lab in vetrina ai prodotti tipici ed enogastronomici. Sulla pista di ghiaccio sarà possibile pattinare al costo di 7 euro all'ora, comprensivi dell'affitto di pattini e calzini. E all'insegna della tradizione, il cartellone delle manifestazioni, non mancherà il trenino di Natale in centro per i più piccini. In attesa del volo della Befana dalla Torre Civica il 6 gennaio arriva Prima Babbo Natale che consegnerà i doni richiesti con le letterine il 13 e il 14 dicembre. Il programma degli appuntamenti prevede anche spettacoli, mostre fotografiche, presentazioni di libri come quello del top lancianese, divenuto un vero e proprio cult per i ragazzi frentani e ancora il capodanno in piazza e le visite guidate a piedi nei quartieri del centro storico. Grazie.